Chi sa di essere profondo si sforza di essere chiaro, scrive Nietzsche. Chi vorrebbe sembrare profondo alla moltitudine si sforza di essere oscuro. Infatti la folla ritiene profondo tutto quel di cui non riesce a vedere il fondo. Molti ritengono che la persona saggia sia necessariamente austera, burbera, fredda e complicata, e che la semplicità sia appannaggio delle persone ignoranti e superficiali. In realtà dobbiamo ricordare che chi si lascia prendere troppo da se stesso, ritenendosi superiore agli altri, chi si fa ingabbiare dalle proprie conoscenze, dimostra di essere ancora molto lontano dall'autentico risveglio. Il vero saggio si riconosce nella sua capacità di essere bonario con tutti, dalla persona più umile all'uomo di grande conoscenza. È troppo facile, oltre che scontato, andare d'accordo con chi è come noi, con quelli che la pensano allo stesso modo, ma colui che è consapevole che l'umanità è una grande famiglia, dove ognuno ha uno scopo e uno spazio, è in grado di riconoscere e apprezzare la grandezza in chiunque. La semplicità consiste nella capacità di esprimere concetti complessi con poche parole, nella sublime arte della sintesi, il che richiede maestria, padronanza e profonda conoscenza dell'argomento. Bisogna invece rifuggire dai concetti astrosi, dall'eccessiva retorica, dal pensare contorto e ingarbugliato, che ci impedisce di vivere bene con gli altri, mirando al contrario a ciò che ci unisce con le persone, all'essenza delle cose. Essere semplici non vuol dire escludere la complessità dalla vita, il che sarebbe impossibile, anche perché essere se stessi non significa essere strani, complicati e contorti. La complessità, che rende ogni cosa esistente e unica, particolare e insostituibile, è assai diversa dalla complicatezza, che invece è un atteggiamento mentale, artefatto, tipico delle menti contorte e insicure, che si nascondono dietro la complicatezza per occultare la mancanza di concetti. A tutti costoro, agli azzecca carbugli di professione, andrebbe rammentato l'antico proverbio romanesco che dice «parla come mani», il che nella goliardia popolare sta a significare che nel parlare, nell'esprimerci, nel comportarci con gli altri, dovremmo essere altrettanto semplici, spontanei genuini, come quando mangiamo. Mi si potrà obiettare che esistono concetti molto complessi che non possono essere espressi con semplicità e chiarezza per tutti. Tale è il motivo per cui convertire la complessità in semplicità è il lavoro di una persona saggia, obiettivo a cui ciascuno di noi, nel proprio piccolo, dovrebbe mirare, anche perché parlare oscuramente lo sa fare ognuno, ma chiaro pochissimi, come ha scritto Galilei. La divina commedia sa essere altrettanto semplice, si dice che i contadini tosco-emiliani conoscessero alcuni canti a memoria, quanto estremamente profonda e complessa, lo stesso dicasi per le opere di Mozart o per i quadri di Raffaello. Pensiamo alla natura, che nella sua complessità parla a tutti un linguaggio semplice e universale, quanta complessità, bellezza e nello stesso tempo semplicità in un fiore, così come in una farfalla o in un albero. Mantenersi semplici, asciutti, all'essenza, significa scremare e rimuovere tutte quelle inutili sovrastrutture della personalità che ci impediscono di vivere bene, in pace e in comunione con gli altri. Essere se stessi, pur essendo in tutto e per tutto come gli altri, tale è il grande lavoro a cui dobbiamo mirare, perché essere saggi è essere semplici. Ho gettato via la mia tazza, diceva Diogene di Sinope, quando ho visto un bambino che beveva a ruscello dalle proprie mani.